Dopo infiniti tira e molla fatti di progetti prima bozzati e poi stracciati, di project financing prima redatti e poi silurati, il nuovo ospedale di Pesaro individua in novembre il mese della resa dei conti. 13 giorni per decidere dove sarà costruito una squadra tecnica e non politica deputata alle valutazioni finali. L'annuncio è arrivato dalla Giunta regionale con l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini a enfatizzare la rapidità della scelta sul nuovo ospedale e l'assessore alle infrastrutture Baldelli a motivare l'ultima pietra tombale al project financing sull'ospedale unico. Una revoca accompagnata dal disappunto trasversale di tutto il mondo PD, da Matteo Riccia al capogruppo in regione Mangialardi alla parlamentare Alessia Morani. La pandemia ha dimostrato, qualora ve ne fosse ancora bisogno, che il diritto alla salute ha necessità di essere erogato su più ospedali. Quindi abbandoniamo la logica dell'accentramento dei servizi sanitari ospedalieri in uniche strutture e cerchiamo di costruire una rete policentrica sul territorio. Questo però significa anche laddove è necessario costruire nuove strutture ospedaliere e rafforzare quelle che già operano sul territorio. Riepilogando addio all'ospedale unico da 612 posti letto, sì a un ospedale nuovo a Pesaro da 400 posti letto, sì al presumibile potenziamento dell'ospedale di Fano con 250 posti letto. Matteo Ricci, digerito a fatica il no all'ospedale unico, si è già detto pronto alle barricate su qualsiasi scelta diversa dalla costruzione di un nuovo ospedale sul terreno del già esistente nosocomio di Muraglia. Unica variabile resta l'ipotesi case bruciate. Muraglia risponde alla filosofia del costruire sul costruito e a una variante urbanistica già approvata ma anche una viabilità complessa e costi stimati superiori, circa 170 milioni di euro. Case bruciate al vantaggio di costi più contenuti, circa 140 milioni di euro e una collocazione strategica in prossimità del casello autostradale. Ma a sua volta lo svantaggio di una variante urbanistica e alcuni espropri ancora da avviare per il via a un eventuale progetto.